Pellissier La Hurte La Carina Luz La Carina En un Con stanotte la Clivenze, la squadra che prende la tradizione sportiva del Chievo ha l'opportunità di vincere il proprio campionato di terza categoria e Sergio Pellissier dopo aver compiuto 43 anni è pronto a rimettere gli scarpini al piede dopo il ritiro qui vedete tutto spento, siamo allo stadio Bentegodi perché non si giocherà qua la Clivenze non gioca qua, qua ci giocava il Chievo adesso andiamo a vedere l'ultima partita, ovvero quella potenzialmente ultima per decidere la vittoria del campionato della Clivenze ma soprattutto il ritorno in campo di Sergio Pellissier venite tutto comincia nell'estate del 2021 il Chievo, poche settimane dopo aver perso i playoff ai tempi supplementari contro il Venezia scopre che non potrà partecipare a nessuno dei campionati FGC a pesare sulla bilancia alcuni arretrati nei versamenti IVA 18 milioni che il club di Luca Campedelli non ha versato nelle casse dello Stato italiano siamo a metà agosto la notizia rimbalza sui giornali e arriva anche all'orecchio di chi con addosso i colori del Chievo nei migliori anni del Chievo ci ha passato praticamente tutta la vita calcistica Sergio Pellissier Pellissier in poche ore prende quel che resta del Chievo e prova ad iscrivere una nuova società in serie D ad un passo dai professionisti per ripartire ma mancano tempo e investitori la squadra non riesce ad iscriversi alla quarta serie né può chiamarsi Chievo 1929 come aveva pensato lo storico Bomber si riparte dalla terza categoria veronese con la Clivenze ma devo dire che già quando ho sentito ho visto che purtroppo quella società dove avevo dato tanto dove mi aveva dato tanto dove avevo passato vent'anni della mia vita stava scomparendo certo mi ha ferito tanto e quando c'era una possibilità di poter riprendere il titolo di quella società e poter riniziare una nuova storia mi è venuto in mente di creare questa società e allora via alle selezioni nel giro di pochi giorni a Verona si presentano quasi 500 ragazzi da tutta Italia esatto da tutta Italia per giocare in terza categoria per onorare il sogno della Clivenze questa è la storia anche di mister Riccardo Allegretti che da calciatore conta 321 presenze tra Serie A e B e non ha avuto dubbi a lasciare la panchina della primavera del Monza per ripartire dal gradino più basso della scala del calcio facendosi spazio tra squadre come il Borgo San Pancrazio o il Vestena Nova la Clivenze di Pellissier e un gruppo di ragazzi con un sogno forse più grande di loro arriva a giocarsi la gara decisiva per la promozione contro il Pozzo esattamente il giorno successivo al 43esimo compleanno del presidente Sergio Pellissier che una promessa l'aveva fatta quella di giocare almeno una partita di questo campionato con il numero 321 che è il nostro capitano Sergio Pellissier Pellissier a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La Clivenze segna anche il secondo gol e poi ecco che sale in cattedra Sergio Pellissier. La Clivenze è un libro pieno zeppo di storie. Come quella di Filippo Pavoni, il portiere rigorista che a marzo, contro l'Edera Veronetta, ha fatto addirittura doppietta dal dischetto. Lui, ragazzo del 1999, che ha il chievo nel cuore. Perché è cresciuto in giallo-blu e perché nel 2017 Rolando Maran lo ha chiamato qualche volta in panchina, in Serie A. Una volta anche allo stadion contro la Juventus di Allegri. E ha deciso di ripartire pure lui dalla terza categoria. A vedere la partita decisiva della Clivenze arriva anche Giovanni Sartori, ovvero l'uomo che, prima di contribuire all'ascesa dell'Atalanta nel calcio italiano, aveva guidato per anni la macchina a Chievo fino alla scalata in Serie A. Ha lavorato per anni al fianco di Sartori, prima al Chievo e poi all'Atalanta, anche uno degli amici più intimi dei Pellissier, Stefano Bottai. E anche Bottai non ha avuto dubbi. Sergio ha bisogno di una mano? Scendo in terza categoria pur di aiutarlo. Tutto da costruire, tutto da fare. Abbiamo fatto quell'isteggia ad agosto, fino agosto, primi di settembre. In due giorni abbiamo fatto la squadra. Sono contento, mi sono tolto una grande soddisfazione. Qual è il tuo rapporto con Sergio Pellissier? Io lo conosco da quando è nato. Siamo dello stesso paese, della Val d'Aosta e poi abbiamo lavorato insieme. Lui giocava, io facevo l'osservatore nel Chievo, poi ho fatto una parentesi a Bergamo, di tre anni, molto bella. E sono rientrato al Chievo anche e soprattutto per lui. Quindi ci lega un'amicizia fraterna, insomma. Fa maledettamente impressione vedere tutta la passione dei Northside. Gli Ultras del Chievo-Verona che hanno portato il proprio vessillo in giro per i più grandi stadi italiani, perfino in giro per l'Europa. E ora che la Clevense riparte da qui, dal gradino più basso, loro ci sono sempre. Vincere non è mai facile e anche se in terza categoria le emozioni che ti danno i tifosi, soprattutto quando sono così tanti, ti fanno capire quanto stai facendo anche per loro e quanto vogliono che tu faccia. Quindi questo è una cosa bella, far qualcosa per gli altri è la cosa più bella che ci possa essere. Il Chievo siamo noi, il Chievo siamo noi, solo noi. Alla fine Pellissie mette dentro una doppietta a 43 anni compiuti. La Clevense batte il posto 5-0 e può festeggiare la promozione. Il primo grande passo dopo la scomparsa del Chievo. La Clevense è una scomparsa del Chievo. La Clevense è una scomparsa del Chievo. La Clevense è una scomparsa del Chievo. Beh, insomma, l'emozione è grande per come siamo partiti, quindi di meglio non potevamo fare. Questa curva? È spettacolare, dall'inizio ci hanno seguito, io mi auguro che siano orgogliosi di noi come noi siamo di loro. Allora, il nostro obiettivo è quello di cercare di continuare a essere orgogliosi, di vestire questa maglia e far sì che la gente possa, ogni volta che parla della Clivense, continuare ad avere questo sogno che portiamo avanti. Fin quando ci sarà un presidente così, un vicepresidente così, la gente può sognare, questo sì. Portate ancora la fiamma del Chievo Verona. Ma io credo che i valori del Chievo, fino a quando ci sarà Pellissier, ci saranno sempre. Questa è la Clivense, un insieme di ragazzi uniti dal sogno immenso di riportare quello che un tempo era il Chievo, di nuovo a volare in alto. È appena finita la partita della Clivense, abbiamo parlato con quelli che erano gli ultras del Chievo, la Northside 94, hanno portato la loro bandiera intorno agli stadi di tutta Italia, dentro gli stadi di tutta Italia e oggi erano qua, in terza categoria, a sostenere quella che è un po' la reincarnazione del Chievo. Ci abbiamo parlato perché chiaramente non volevano essere ripresi, non volevano rilasciare interviste, però quello che sicuramente ci hanno passato nella nostra chiacchierata è una cosa. I Northside, anche in terza categoria, hanno scelto di continuare la tradizione del Chievo con l'FC Clivense e l'FC Clivense, sicuramente, questa è una promessa fatta dai ragazzi, non morirà né sugli spalti né in campo per tornare magari un giorno a sognare dentro al Bentegodi. Sono tornato perché era una promessa e quindi credo molto nelle parole, era giusto mantenere a parola, avevo detto che avrei voluto partecipare anch'io in questo progetto e quindi oggi ho mantenuto a parola. Certo, era la giornata giusta, certo mancava un punto, certo era quasi fatta e quindi è andato tutto per il verso giusto. Come ho sempre detto, questa non è la mia società, non è la società del mio soggio, è la società di tutti quelli che vogliono partecipare, di tutti quelli che credono nel calcio pulito, delle persone pulite. Ci sarà sempre a mia faccia finché potrò esserci e quindi mi auguro che questo progetto possa andare molto più avanti. Grazie.